E ci diede un po' di medicina perché... Sono le strutture adesso le osservate speciali in merito ai protocolli riservati all'autismo. Ancora di più dopo che assurda gli onori della cronaca la storia di Daniele Osio. 41 anni, autistico, vive con mamma e papà alla periferia di nocere inferiore. Ha instaurato da sempre il classico rapporto uno ad uno che caratterizza l'autismo con il suo papà Giuseppe. L'uomo, per il figlio, ha sacrificato tutta la vita dal momento che Daniele vive con lui in simbiosi, mano nella mano, 24 ore su 24. Gli anni però hanno logorato Giuseppe nel fisico soprattutto ed ora è tempo di guardare oltre. La famiglia Osio ha ribadito a più riprese che, lo confermano le carte, Daniele non è un malato di mente che va internato. Una speranza gli arriva da una struttura di Cicciano dove gli sono disposti ad applicare la sperimentazione del tutor dalle 12 alle 24 ore. L'impasse, per ragioni economiche, occorrono circa 5.000 euro al mese, anche se solo per sei mesi. Io penso che nel caso nostro, di genitori che viviamo una realtà del genere, il percorso deve essere graduale, un percorso che deve essere vissuto durante la vita del bambino autistico. Non è pensabile che un bambino dopo tanti anni vissuti con la realtà che il quotidiano è quel rapporto che si crea da padre e figlio, poi un giorno viene preso e viene portato a qualche parte, quindi questo significa distruggere ulteriormente la famiglia. Io penso che ci vogliono dei luoghi importanti, luoghi che il bambino autistico o la persona adulta autistica riconosca come un suo ambiente e man mano insieme al papà o al genitore, colui che ha un'empatia particolare con lo stesso, possano viverli insieme e ci sia anche il distacco di questi ambienti, per cui un genitore che arriva a una certa età, come nel caso che abbiamo visto, possa anche allontanarsi un pochettino da quell'ambiente che è il figlio e sapere che il suo figlio vive in un contesto importante, un contesto che lui riconosce, sa che sta bene e può anche vivere la sua vecchiaia in un modo diverso. Nel caso di specie sicuramente non si riesce a vivere la vecchiaia in un certo modo, perché comunque è un dramma importante, è un figlio che sai che vive in sinergia con te, quindi non riesco ad immaginare cosa possa essere un distacco del genere.